Sono aumentati, sebbene in maniera che fortunatamente continua ad essere moderata a fronte di un numero considerevolmente più alto di tamponi inseguiti, i contagiati da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore e quanto viene fuori dal quadro riepilogativo della situazione nell'isola giornata alle 17 di oggi, giovedì 30 aprile, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 79.669, ovvero 4.309 in più rispetto a ieri, sono risultate positive 3.166 persone, 26 in più rispetto a 24 ore fa, mentre attualmente sono ancora contagiati 2.157 siciliani, 12 in più di ieri, 774 sono le persone guerite, ieri erano 11 in meno, mentre con i tre morti delle ultime 24 ore deceduti sono saliti a 235. Sono 441 i pazienti ricoverati, ieri erano 8 in più, 33 i posti occupati nelle terapie intensive calati dunque di una unità, mentre sono 1.716, 20 più di ieri, i siciliani in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i dati provinciali, nell'Agrigentino i casi sono ancora 69, con 65 gueriti ed un deceduto. A Sciac, come è noto, ci sono due nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19, dimostrazione che occorre ancora prudenza, seppure si sia ormai lontani dai numeri allarmanti che avevano reso la città termale il focolaio della provincia. Si tratta di contagi riconducibili a nuclei familiari dove già si erano registrati dei positivi. In particolare, in un caso, si tratta di un quarantenne, coniuge di un soggetto già risultato positivo e, nell'altro caso, del padre di costui. Entrambi erano comunque già in quarantena. Con i due nuovi casi, la città di Sciac arriva a 25 contagi dall'inizio dell'epidemia. Di questi, però, a buona parte, sono ormai gueriti, 17 per l'esattezza, mentre sono 4 e deceduti, per cui attualmente le persone positive a Sciac sono 4. Sul fronte delle persone in isolamento domiciliare, complessivamente, il numero è solito 631. Di questi, 359 tamponi hanno già dato esito negativo. Altre 272 persone sono in attesa dell'esito del tampone di verifica alla fine della quarantena obbligatoria. In larga parte si tratta di soggetti arrivati da altre regioni, oltre ovviamente a familiari di persone. Risultate positive. Per quanto riguarda le altre province, in attesa dei nuovi dati dell'ASP, quelli della regione indicano 126 positivi a Caltanissetta, 665 a Catania, 294 ad Enna, 370 a Messina, 373 a Palermo, 56 a Ragusa, 112 a Siracusa, 92 a Trapani.